Chi ha subito danni alla persona o alla propria impresa a causa del racket o dell'usura può ricevere a titolo di risarcimento un contributo del Fondo di Solidarietà. In ogni prefettura si forniscono informazioni e aiuto per presentare la richiesta dei benefici economici. Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell'Interno.